Sono un simbolo tutto italiano del nostro viaggiare. Sono un patrimonio unico. Sono le case cantoniere che costellano da due secoli le statali italiane, da nord a sud. Oggi ANAS ha deciso di rivalutare questi immobili, nati per garantire la manutenzione stradale e dare ai cantonieri una casa e una rimessa per i loro attrezzi, facendoli diventare luoghi aperti ai turisti e ai viaggiatori, creando allo stesso tempo una nuova forma di imprenditorialità dell'accoglienza. Le case cantoniere saranno luoghi di promozione dei prodotti locali, infopoint dotati di Wi-Fi, ristoranti, ostelli, bar, stazioni di ricarica per auto elettriche. Tra le tante case cantoniere oggi esistenti verranno selezionate quelle più adatte alla trasformazione, sia per caratteristiche dell'immobile che per posizione, che avverrà mantenendo comunque l'uso istituzionale per le quali erano nate. Sono stati identificati alcuni percorsi ad alto interesse turistico sui quali avviare il progetto. Le vie del nord in Lombardia e la valle d'Ampezzo in Veneto, la via francigena dal Piemonte e dalla Val d'Aosta fino a Roma, l'appia da Roma a Brindisi. Un'operazione di valorizzazione turistico-culturale in cui le case cantoniere diventeranno il punto di intersezione tra storia, territorio, cultura, strade e viaggiatori.